Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, a voi ben conosciuto, ben noto e ormai usuale disordine della mia libreria. Allora, la mia faccia forse vi sta prefigurando quello da cui andrete incontro con questo video, la mia maglietta, attla, a come atrocità, doppia t come terremoto e tragedia, i come il di Dio, el come la di sangue, a come adesso vengati, sfascio le corna, rende l'idea veramente di quello che vi sto per dire. Allora, mettiamola così, Umberto Eco fece una gran polemica poco prima della sua morte dicendo che internet aveva dato voce a legioni di imbecilli. Eh, vabbè, parlo io che con la terza media faccio l'esperto di storia, vabbè, ma lasciamo stare. Dicevo, Umberto Eco diceva questa cosa delle legioni di imbecilli che hanno trovato diritto di parola su internet grazie alla rete. Beh, Umberto Eco c'aveva ragione, perché mi è capitato, mi è capitato, grazie all'amico Roger Jagler, che ringrazio veramente perla perla, anche se, cioè, vi giuro che quando l'ho saputa, io, così, così mi sono messo, no, 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 no. Cioè, qui abbiamo qualche cosa di veramente peggio rispetto alle picchiate verticali dello Stuka senza aerofreni per prendere a cannonate i carri armati russi in movimento. Siamo a livello di bestialità assoluta, ma veramente di bestialità totale, assoluta e infinita. Perché? Allora, io vi dico la verità, quando l'amico Roger Jagler me l'ha fatta vedere, cioè io non riuscivo veramente a credere nei miei occhi a quello che stavo leggendo. Allora, vi dico solo questo. Avete presente questo? Vediamo un po' se lo riconoscete. Cioè, sicuramente dovete riconoscerlo. Non potete non riconoscerlo. Non potete assolutamente sapere, non sapere che cosa sia questo aereo. Il Machi MC72, il famoso idrovolante che è tuttora detentore del record mondiale di velocità per idrovolanti, pilotato da Francesco Agello. Allora, io vi giuro, quando l'amico Roger Jagler mi ha fatto vedere la discussione io vi giuro, come cazzo si fa a dire che l'MC72 poteva benissimo essere usato come aerosilurante? Cioè, 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 usare l'MC72 come aerosilurante. Secondo qualcuno, si poteva usare un aereo da corsa come l'MC72 come aerosilurante. Cosa ci vuole? Basta mettergli un siluro fra le gambe dei galleggianti. Cioè, io vi giuro, quando ho letto la cosa, cioè, ci sono rimasto non di merda, ma peggio che di merda, perché, cioè, allora, 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 facciamo un pochino d'ordine. Nel 1933 ci sono i grandissimi successi propagandistici e dei record dell'MC72, ok? Ma in quello stesso momento, in quello stesso anno, salta fuori la decisione di rinunciare, cioè, salta fuori la decisione di rinunciare alla costruzione dei motori aeronautici in linea per passare alla, come dire, all'uso dei motori radiali. Cioè, la circolare del Ministero dell'Area nel 1933 impose di fatto alle industrie italiane di abbandonare lo sviluppo dei motori in linea raffreddati a liquido in favore dei motori radiali, di cui nessuno aveva alcuna esperienza qui in Italia. Tant'è che prendemmo dei motori stranieri, francesi, inglesi e americani, li producemmo su licenza e ne ottenemmo delle copie sfiatate o inaffidabili, tipo i radiali piaggio, ma questa qui è una storia che sappiamo già. Cioè, scusate, allora, usare l'MC72 come aerosilurante vuol dire semplicemente non avere la più pallida idea di quello che si dice. Poteva essere benissimo usato come aerosilurante. Ok, 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 c'è tanto per dirne una. La costruzione, cioè questo è un numero di aerei nella storia del maggio 99, di aprile, di aprile maggio 99, il numero 5. Cioè, come vedete, allora, notate bene, vedete queste fasce gialle sui galleggianti, sulle ali e sui montanti degli scarponi? sono i radiatori, sono i radiatori quelli che fasciavano praticamente tutto l'aereo per garantire la maggior penetrazione aerodinamica possibile. Cioè, ma voi ve ne immaginate cosa sarebbe dire anche soltanto provare di installare un siluro in un aereo così dedicato? Cioè, un siluro, un siluro, tra le prese, cioè, un siluro, un siluro installato sotto la fusoliera dell'MC-72 tra le gambe? Cioè, 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 io non riesco neanche a parlare, cioè, ho detto, io di stronzate ne ho sentite tante, sugli aerei, sui carri armati, sulle cose, ma questa veramente le batte tutte. Cioè, l'incapacità assoluta di capire la differenza tra un aereo da corsa, cioè, voi andreste in guerra con una Ferrari di Formula 1? Cioè, voi montereste, tanto per fare un esempio, voi montereste, che cazzo ne so, una mitragliatrice, una calibro 50 su una Ferrari di Formula 1 e la usereste come, non lo so, come autoblindo o come carro armato? L'idea è quella, cioè, l'idea che ha avuto sto signore di installare, ho detto, si poteva essere usato come aerosilurante. Cioè, cioè, io non ho parole. Cioè, io dovrei essere abituato alla stupidità, alla superficialità, all'ignoranza, alla cretineria totale e assoluta di certa gente, perché, tanto avete visto anche voi, come dire, nei commenti ai video del mio canale, ne trovate di tutti i colori. Cioè, veramente, c'è delle perle assolute. Ma usare, usare il Macchi Castoldi 72 come aerosilurante, cioè un aereo che era nato per volare dritto a non più di cento metri di quota. Delicatissimo, con un motore che, definire bizzoso è poco, motore, due motori accoppiati che funzionavano, che funzionavano solo grazie ad una complicatissima miscela di carburante speciale che veniva preparata al momento e che, ironia della sorte, era opera di un... era opera di un tecnico inglese ex specialista della Rolls-Royce. Cioè, usare un aereo da competizione come l'MC 72 come aereo da guerra lo facciamo lo facciamo sinurante. Cioè, perché? Perché era un aereo da record, perché avevamo le capacità industriali, perché eravamo avanti, perché i record, i record, i record. Anche il Breda BA 88 Lynch fu un aereo da record e si sono visti i risultati. Cioè, io voglio ridere, cioè io voglio veramente ridere al pensiero, cioè al pensiero di un MC 72 con un siluro sotto la fusoliera. C'è una famosa foto, purtroppo non sono stato in grado di trovarla, ma c'è una famosa foto di Francesco Agello dopo il glorioso primato di velocità che per evitare che l'MC 72 si capotti è appollaiato subito dopo il record è appollaiato sul muso dell'aeroplano, sul muso dell'MC 72 per evitare che si capotti perché i serbatoi contenuti nei galleggianti si erano svuotati ed era sbilanciato in coda. Cioè, io, signori, non so che cazzo dirvi, cioè io ne ho sentite tante, ma questa le botte veramente tutte. Usare l'MC 72 come silurante e dire noi avevamo le capacità di fare questo e quello. Cioè, noi, 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 noi che non fumo in grado di capire che occorreva sviluppare motori potenti affidabili e che cosa facemmo nel 1933, lo stesso anno in cui Agello conquistava il primato di velocità assoluto con l'MC 72 e che cosa andiamo a fare? Blocchiamo lo sviluppo e la ricerca dei motori aeronautici in linea raffreddati a liquido per passare ai radiali che non avevamo la minima idea di come andavano costruiti e usati tant'è che i risultati furono quantomeno disastrosi e si vide ripeto i radiali Alfa Romeo i radiali Piaggio i Fiat se vi sembrano motori insomma pesavano fino a 100 kg di più rispetto agli originali inglesi francesi americani i radiali Alfa Piaggio e Fiat pesavano fino a 100 kg di più e avevano più oltre 100 cavalli in meno rispetto a quei rispettivi americani cioè basti dire una cosa il motore del gigetto il motore del G50 850 cavalli lo sapete da cosa deriva? Nel Praten-Witney quelli che poi avrebbero mosso bestioni come il Thunderbolt il Corsair e gli americani ne ricavarono potenze prossime ai 2000 cavalli mentre noi non fumo capaci di spremerne più di 900 perché avevamo il potenziale industriale perché avevamo gli aerei da primato con gli aerei da primato in guerra ci puoi fare soltanto una cosa pulirti il culo e anche gli inglesi avevano gli aerei da primato vedi per esempio vabbè i Supermarine in S6 in S6 gli aerei con cui gli inglesi vinsero definitivamente la Coppa Schneider e dal motore Rolls-Royce PV12 PV sta per Private Venture lo sapete che cosa derivò? il Merlin il Merlin e il suo derivato Griffon solo che gli inglesi riuscirono a sfruttare le esperienze delle corse noi italiani no perché? perché nel 1933 praticamente il giorno dopo la conquista del record di Agello buttammo nel cesso tutte le ricerche del reparto alta velocità di Desenzano del Garda per cosa? per mettersi a costruire i motori radiali di cui non sapevamo assolutamente niente e fare che cosa? mettere in servizio il CR42 il G50 Gigetto e il Mach-MC200 cioè come diceva quello no Maria io esco no vabbè scusate cioè e soprattutto gente che nel 2018 non è in grado di fare una semplice connessione tra testa e culo per capire che un aereo da corsa che veramente doveva volare doveva volare dritto e livellato a tutto gas facendo due virate in circuito pretendere che potesse montare un siluro sotto la fusoliera io rido per non piangere ma veramente è roba da sputare in faccia chi pronuncia certe stronzate ma grosse l'amico Roger Jagler quando mi ha fatto leggere sta cosa io veramente io non riuscivo a crederci non riuscivo fisicamente a crederci ripeto l'idea di inserire un siluro sotto la fusoliera dell'MC72 eccolo qua tanto lo conoscete tutti sapete tutti cos'è il più prestigioso aereo della storia aeronautica italiana indubbiamente il detentore dell'imbattuto record di velocità per idrovolanti con motore a scoppio a elica mettiamoci un siluro sotto perché poteva essere facilmente adattato adattalo tu ingegnere laureato all'università della strada e diplomato alla scuola della vita va bene io sono uno stronzo con la terza media ma non vado a fare affermazioni simili alla cazzo di cane perché non voglio fare brutte figure perché so benissimo che c'è gente che ne sa più di me a pacchi e persino uno stronzo come me che ripeto soltanto la terza media non va a dire puttanate sull'MC72 ma che vi devo dire io sono famoso cioè ragazzi cioè mi incazzo è vero mi incazzo ma non è che mi incazzo tanto per per la puttanata detta sull'MC72 ma per la superficialità con cui certe affermazioni vengono fatte per l'incapacità di capire un cazzo da parte di chi le dice ragionate volete parlare volete capire qualche cosa ho detto leggete qualche cosa leggete qualche articolo cioè per esempio questo l'articolo di Aerei nella storia che parla del dell'MC72 e del suo motore cioè è esemplare per chiarezza e semplicità facilmente comprensibile a chiunque a parte chi a parte i soliti idioti esaltati che vedono ah perché avevamo l'aereo da primato ripeto anche il Breda B-88 era un aereo da primato e non è che abbia fatto una bella figura ehm gli aerei da primato avevamo gli aerei da primati ah le crociere atlantiche ah il record di agello sì ma siamo stati capaci di mettere in servizio di sviluppare le innovazioni dei primati la risposta è semplice no perché i motivi sono tanti molteplici disorganizzazione rivalità il corporativismo inefficace la rivalità tra le varie case costruttrici l'incapacità delle case costruttrici di collaborare l'incapacità di capire un cazzo da parte degli alti gradi dell'aeronautica è anche quello Pricolo e Valle Valle e Pricolo i Gianni e Pinotto dell'Armazzurra due imbecilli che non hanno veramente capito niente e che hanno buttato veramente nel cesso tutte le preziosissime straordinarie esperienze del reparto alta velocità di Desenzano del Garda altro che montare un siluro sotto la fusoliera dell'MC72 lì c'era tutta un'altra cosa da fare cioè sviluppare scegliere ricercare evolvere un motore che fosse possibile usare come motore per un caccia da usare in guerra e non certo per un delicatissimo motore da competizione che doveva girare solo per pochi minuti a tutto gas volando piatto basso e livellato no l'Italia non ne fu capace non volle esserne capace ci rinunciò buttò tutto nel cesso e adesso nel 2018 a distanza di circa 80 anni cioè che cosa vengono a dire vengono a dire poteva potevamo mettere un siluro sotto la fusoliera dell'MC72 lasciate perdere l'aviazione per piacere se pensate certe idiozie è una cosa seria è una cosa seria cioè ragionateci cioè io cioè ragazzi scusate i toni scusate se ho alzato la voce scusatemi se dico le parolacce quando dico certe cose ma che cazzo devo dire sentendo certe puttanate il bello di essere un ignorante con la terza media metallaro e stronzo come il sottoscritto è questo posso permettermi di bestemmiare come insomma posso permettermi di di sacramentare come un animale e di dire che certa gente uno deve smetter di bere due deve smetter di occuparsi d'aviazione tre deve imparare a stare zitta per fare più bella figura quattro quattro soprattutto 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 ricordarsi una cosa che l'ignoranza non è un merito ok e l'essere convinti delle proprie idee non sempre è cosa buona anzi anzi e mettere un siluro sotto la fusoliera dell'MC72 ti dico io dove lo devi mettere il siluro non certo sotto la fusoliera dell'MC72 indovina un po' dove con grasso e sabbione tanto grasso e ancor più sabbione vabbè signori scusate lo sfogo scusate l'incazzatura scusate le bestialità e le parolacce ma che cazzo le dovevo dire l'MC72 poteva diventare un silurante e la risposta è sto cazzo vabbè signori la sceneggiata l'ho fatta l'incazzatura l'ho presa la boiata del decennio è stata detta che vi posso dire al signore che ha detto questa allucinante puttanata posso dire soltanto una cosa che il disonore scenda su di te che il disonore colpisca te colpisca la tua famiglia colpisca la tua mucca colpisca le tue pecore e colpisca anche il tuo pollaio perché giusto quello deve fare disonore su di te la tua famiglia la tua mucca le tue pecore e il tuo pollaio disonore 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 come nel trono di spade shame 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 vergogna penitenziagite e vabbè che vi devo dire rassegniamoci se a destra ci sono tanti imbecilli a sinistra siamo circondati da cretini se a te ne piange sparta non ride e soprattutto indovinate un po' dove si infila il siluro dell'MC72 tutto qua signori vi ringrazio tantissimo per l'attenzione ripeto chiedo scusa per la sbarellata ma quando cevo cevo quindi cari signori arrivederci nuovamente al mio prossimo video e grazie ancora ciao